Ciao sono Alec e questa è la prima volta che scrivo e disegno una storia si chiama Barba storia di come sono nato due volte è la storia di Ale un ragazzo che nasce e cresce con un vuoto in pancia circolare che tenta durante tutta la sua vita e tutto il racconto di riempire circondandosi di sfere colorate fino a che non trova quella che combaci perfettamente con il vuoto che ha in pancia durante questa ricerca lo accompagna Pablo il suo coinquilino il suo compagno di viaggio una tigre che fortunatamente riesce sempre a tirargli sul morale questo vuoto tocca tutti prima o poi anche se in realtà in questa storia ha a che fare con un qualcosa di un po più specifico ovvero a che fare con l'identità di genere durante la storia Ale si chiede che cosa significa essere donna che cosa significa essere uomo e capisce che in realtà la domanda che forza ha più senso è che cosa significa essere davvero se stessi Ale nasce come Lisa ma in realtà dentro è sempre stato un ragazzo è sempre stato Ale e poi nel fumetto si bada un sacco un sacco guarda un sacco un sacco un sacco una b deci Grazie a tutti.